Mister Giacomo Lazzini, c'era molta curiosità di vedere come il Ponzacco affrontava questa partita su un campo molto pesante, 45 minuti e la partita era già praticamente quasi in cassaforte. Devo dire uno dei migliori primi tempi di quest'anno sicuramente, abbiamo messo anche tanta qualità nonostante il campo fosse in pessime condizioni, quindi abbiamo subito approcciato bene la gara, è proprio piaciuto lo spirito e quindi tre punti importanti, sommati a quelli venuti in settimana per la vicenda Fortis, dove siamo stati anche un po' fortunati, è inutile negarlo. E quindi il passo giusto è questo, la mentalità deve essere questa qui e quindi bisogna continuare così. Ecco, un po' di curiosità alla lettura delle formazioni, pagano neppure convocato, il motivo? Il motivo è che non eravamo sicuri che avesse scontato la squalifica, visto che non eravamo sicuri, quindi abbiamo preferito non rischiarlo, visto che abbiamo anche una cosa importante, sono contento che oggi ha fatto bene Beltram, i due davanti vabbè, lo sappiamo, e quindi era giusto non rischiarlo, così adesso è pulito, ha finito la squalifica e quindi speriamo da mercoledì di averlo a disposizione, e sicuramente ci porterà quel valore aggiunto che tutti quanti ci aspettiamo. Ecco, abbiamo visto un Mattia Brondi, soprattutto nel primo tempo, che quando accelerava in un campo così allentato, ha messo molte volte in difficoltà la difesa avversaria, l'ha schierato in un ruolo molto più vicino alle due punte. Adesso sono due partite che abbiamo un po' cambiato modulo tattico, io ho sempre detto che ce l'abbiamo nelle nostre corde, sia il 4-4-2 che il 4-3-3, quindi oggi fare delle gradatorie mi sembrerebbe riduttivo per tutti, credo che tutti quanti abbiano fatto una gara importante, ripeto, tutti quanti oggi sin dal riscaldamento, visto che erano vivi, pronti, e se noi siamo questi per gli altri diventa difficile. Hai tolto Brega e Granito a 10 minuti dal termine, questo anche in previsione del turno di mercoledì in Coppa contro l'Albinia. È una settimana impegnativa perché abbiamo queste tre partite, noi la Coppa non la snobbiamo affatto, anzi vogliamo andare più avanti possibile. Purtroppo capita con campi pesanti, quindi oggi sono riuscito a risparmiare quei 20-25 minuti a uno e all'altro e quindi è importante, però bisogna affrontare partita per partita, è inutile fare i calcoli. Oggi a un certo punto siamo stati bravi anche a gestirla nel secondo tempo, senza rischiare quasi mai niente, magari anche dosando un po' le forze in vista di mercoledì, che sarà un'altra battaglia. Ecco, stessa domanda che ho fatta dal Presidente, come vedi questa classifica che Ponzacco e Pietrasanta staccano un po' tutto il gruppo, c'è una classifica un po' spaccata? La vedo, noi stiamo facendo quello che bisogna fare, Pietrasanta sta facendo bene e quindi per adesso sembra che le due squadre che si devono contendere questo campionato siamo noi e loro, vediamo lungo andare il campionato. Io sinceramente la classifica non la guardo nemmeno adesso, io la vorrei guardare al termine di regione d'andata per trarre un po' delle conclusioni sia per quanto ci riguarda per quanto riguarda gli avversari.